Poco personale e troppo lavoro negli uffici postali della provincia di Arezzo. Questa la denuncia che arriva da Will Poste attraverso il suo segretario Claudio Rogialli. Secondo il sindacato, infatti, gli uffici postali della città non sarebbero in grado di gestire la mole di clientele di lavoro sotto le festività natalizie. Il sindacato fa parlare i dati 2000 pacchi al giorno solo su Arezzo, 300 pacchi al giorno su uffici con tre portalettere in un territorio definito troppo esteso. La situazione, afferma Poiro Gialli, è identica se non peggiore nelle altre vallate della provincia. Ai pacchi si è anche aggiunto l'aumento esponenziale in migliaia di raccomandate fatture che oltre a dover essere tracciate devono essere consegnate perché vanno in scadenza e allora l'accordo che prevedeva due percorsi ben distinti è definitivamente saltato e pur di consegnare si fa portare tutto indistintamente chiedendo ai lavoratori ore e ore di straordinario. Una situazione che causa quotidianamente infortuni anche gravi e ciliegina sulla torta invece di assumere personale poste italiane licenzia. La Will Poste conclude se non ci sta o si rispettano gli accordi e si trova una soluzione condivisa per risolvere il problema e dare risposte ai lavoratori o dalle denunce siamo pronti ad impegnare i lavoratori in altre forme di lotta.